Noi dobbiamo sempre entrare con il cento per cento di concentrazione e determinazione per cercare di fare quello che stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Raicevi è un buonissimo giocatore anche perché ricorda Budimir, vagamente come le movenze e tutte queste cose qua, lo stesso Bafon, insomma sono tutti davanti, sono tutti dei buonissimi giocatori, come ho detto prima dobbiamo entrare in campo giusti e cercare di limitarli e poi fare il nostro gioco. Come abbiamo visto anche col Perugia, se non entriamo in campo giusti, il nostro peggior avversario siamo noi, quindi dobbiamo sempre entrare con la giusta determinazione, sempre le stesse cose sono, però è vero perché alla fine quando noi caliamo leggermente magari non facciamo la nostra prestazione che solitamente facciamo e di conseguenza dobbiamo più pensare a noi che agli altri. Non era facile anche perché le squadre che sono affrontate si chiudevano dentro e facciamo fatica a trovare degli spazi, però noi siamo consapevoli che all'uscita possiamo fare bene e cercheremo di ottenere il massimo anche questo sabato.